buonasera 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 ci troviamo nell'aeroporto delle canarie siamo per partire qui da capodichino per l'imbarco volo tenerife c'è l'attesa per i tamponi quindi siamo tutti in fila come vedete vedete siamo tutti in fila per fare i tamponi per andare a tenerife a tutti quanti buonasera 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 vivono la sera come al solito e dobbiamo rispettare i protocolli di intesa i protocolli del convite perché alla fine tutto il convite questo lo sa a dopo